io ragazzi vi dico una cosa ve lo dico sinceramente con tutto il cuore veramente io spero che tutto questo frastuono tutta questa situazione che si è generata dopo la partita di dopo la partita se così si può chiamare dopo lo scempio di ieri sera servi a qualcosa e che continui a esserci questo frastuono ma non solo nel singolo episodio dove mi sembra che a volte si prende per comodità no? che ragazzi a me mi sembra che faccia un po' comodo oggi e vedo i media i giornali che calcano la mano come giusto che sia ma deve essere sempre così però non a comodo deve essere sempre così quando si dà dello zingore a una persona non va bene che sia Stancovich, Ibrahimovic o tutti quelli che vengono considerati zingari quando si dà del figlio di una persona non va bene quando si dice tua sorella è un amico non va bene quando si insultano i napoletani in ogni parte del mondo non va bene anche quello è razzismo perciò continuiamo sempre abbiamo iniziato oggi perché mi sembra che tutti quanti siano scesi dal pero mi sembra che sono terminato non si può è una cosa che è sempre esistita ragazzi si è sempre fatto finta di nulla o si è detto ma tra virgolette no ragazzi allora andiamo avanti sempre non quando c'è la partita che magari è bella è bella da commentare ha segnato l'idolo ha segnato il campione allora i cori eh vabbè ci sono stati bisogna essere superiori invece ieri siccome non c'è stata una partita da commentare ma non scempio di schifo di partita che è stata allora si prende a comodo io spero spero di sbagliarmi poi sicuramente mi sbaglierò e sono io che vedo vedo sempre quello che non c'è però il campo ci darà le risposte vediamo domani dopo domani perché tanto quello che è stato fatto ieri contro Lukaku succede sempre ragazzi sempre a qualsiasi livello non è solo Lukaku il poverino di turno sono tutti i poverini poi ragazzi io non ce l'ho con Lukaku tutta la mia solidarietà perché non si possono sentire queste cose ma proprio in maniera assoluta ma come non si possono sentire tutte le altre che ho detto prima i vari zingari i vari figli di i vari napoletani i vesuvio i lavali tutte queste minchiate non si possono sentire perciò bisogna che ogni volta ogni volta che succedono bisogna sottolinearle non a comodo non non far finta di niente quando c'è altro di cui parlare se no non va bene non va bene ragazzi non voglio creare polemica ripeto giusto andiamo avanti su questa strada qua se vogliamo sconfiggerla andiamo avanti sempre però non a comodo perché a comodo non è bello belli siete buongiorno buongiorno ragazzi buongiorno a tutti ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nec nella casa del pane balloon vi invito subito ad iscrivervi al canale ragazzi se vi va iscrivetevi al canale attivate la campanella così rimanete aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti fatelo è importante non costa nulla se vi va scaricate l'app di OneFootball se amate il calcio quanto lo amo io il calcio però il calcio non questa roba qua scaricate l'app di OneFootball che è un'app totalmente gratuita che vi tiene aggiornati in tutto e per tutto highlights di serie A serie B calcio in streaming tutto sul calcio mercato potete personalizzarla con la vostra squadra del cuore potete avere notizie in tempo reale statistiche pronostici formazioni veramente è completa in tutto e per tutto perciò non dovete far altro che scaricare il link in descrizione perché bella è l'app di OneFootball bene dai ragazzi allora scusate scusate non voglio sembrare quello fuori dal coro non voglio sembrare quello che è ma cavolo tutti quanti e tu vai controcorrente io sono il primo a dire che bisogna sconfiggere la delinquenza il razzismo per l'amor di Dio e perché non si può e solidarietà veramente a Lukaku perché al di là della rivalità calcistica però è una cioè ragazzi non si possono sentire ma questo ripeto vale per tutti quanti però perché a volte mi sembra che per certi giocatori o per certe situazioni si sottolinea di più piuttosto che per altre e a me questo non piace non piace io lo dico proprio in maniera chiara e tonda dico che va va sconfitto perciò se si è iniziato tutti quanti a fare tutto questo po' di caos come giusto che sia perché non si possono sentire certe determinate cose continuiamo continuiamo a farlo però io spero che domani non si smetta perché poi domani o stasera che c'è un'altra partita e non è che cambia molto la situazione non cambia perché i cori ci sono sempre e se lo vogliamo sconfiggere dobbiamo sconfiggere sempre se no rimane un un caso isolato se ne parlo adesso due tre giorni giusto per per scrivere qualche prima pagina di giornale per dire qualcosa visto che non c'è stato niente di campo e poi domani c'è un'altra partita bella ci si è dimenticati di tutti se nella partita bella si fanno i cori razzistici si dimentica perché la partita è bella e c'è da parlare della partita io dico solo questo per questo non voglio essere polemico voglio che si continui veramente così arrivando alla partita di ieri la partita di ieri ma bremer adesso mettiamolo un po' più cerchiamo perché poi c'è anche c'è anche c'è anche il campo no e poi c'è anche un pochettino da metterla un po' più su ridere perché ricordiamoci ragazzi che noi stiamo parlando di calcio è stiamo come ho già detto altre volte parliamo della cosa più importante delle meno importanti perciò ricordiamoci che dobbiamo essere quantomeno quantomeno tranquilli e rilassati nel giro dico ma bremer si può saltare in quella maniera adesso comunque al di là di tutto è stata una partita veramente brutta bruttarella dove non dove non c'è stato nulla si si è visto che è una partita di andata se la giocherà avevano intenzione ambo le squadre di giocarsela nel ritorno poi la juve ha trovato questo gollettino facendo poco e nulla e l'inter ha trovato il pareggio con appunto lo svarione di bremer ecco se bremer quando salta salta con le mani un po più composte avrebbe evitato di fare il rigore e tutto quello che è scaturito adesso al di là al di là dello sfottò ragazzi non mi piace non mi piace non mi è piaciuta per niente la partita non mi non mi sono piaciute le dichiarazioni anche questo dire eh lukaku ehm io non giudico lukaku per per quello che ha fatto se ha reagito agli insulti non mi permetto anche perché io sono abbastanza fumantino nel senso che anche a messi anche io se vengo provocato mi innervosisco e reagiscono è sbagliato la sappiamo che la reazione è sbagliata però eh non è che uno diventa cattivo a un certo punto più cattivo di quello che provoca ognuno è fatto a modo suo perciò io non giudico lukaku se ha reagito se in quel momento ha voluto azzittirli perché si è sentito offeso ci sta ci sta e non 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 è il cattivo di turno però ti sei preso nello stesso tempo un rischio perché se c'è un regolamento scritto non scritto adesso non lo so però se c'è un regolamento che dice che rispondere a delle provocazioni provocando può scaturire nell'ammunizione in quel momento ti sei preso un rischio è sbagliato uno uno dice ma lui ha subito tutto qua tutta la partita e poi è venuto espulso a parte il fatto che non è stato espulso per quel gesto è stato ammonito poi se dieci minuti prima non so per quale motivo decide di fare un fallo del genere senza motivo agate prende una prende la prima munizione perciò lukaku mettiamo in chiaro le cose non è stato espulso per quello che ha fatto è stato ammonito solo che era la seconda munizione l'espulsione è arrivata di conseguenza ecco e si è preso un rischio ragazzi lukaku ha reagito ha agito come in quel momento meglio credeva e si è preso un rischio a suo rischio e pericolo io poi ho sentito dire esulta sempre così e ho capito ragazzi esulta sempre a parte che non è vero perché è vero che lui ha esultato spesso con la mano così facendo così ma non col viso rivolto a chi lo sta insultando ma col viso basso così ieri si è visto proprio che è stata una reazione agli insulti che ripeto io la giustifico perché anch'io sono fatto così non riesco a tenermi nulla se uno mi insulta io ragazzi parto sbagliando anch'io però sono così perciò io non giudico la sua reazione però non posso dire che è stato sbagliato che l'arbitro ha sbagliato che l'arbitro c'è l'arbitro cosa sbagliato l'arbitro ha fatto in quel momento ha visto che lui ha delle provocazioni ha provocato con dei gesti e l'ha munito cioè ragazzi l'ha visto l'arbitro perciò io non ci vedo niente di scandaloso sentire poi il l'allenatore in zaghi in conferenza aggrapparsi a quello e insomma ragazzi diventa un pochettino poi stucchevole perché non ci non si può ridurre tutto quanto a quello noi non avremo il giocatore tu un giocatore non ce l'hai non perché l'arbitro ha sbagliato perché il tuo giocatore in quel momento non è riuscito a tenere a tenere a freno i nervi e ci può stare ripeto continua a dire che ci può stare perciò detto questo e poi ci sono state anche le espulsioni di andano ci ho capito perché è iniziata a pestarsi chissà cosa sarà successo anche negli spogliatoi però insomma la partita di ieri dice che è stata una partita di merda sostanzialmente dove due squadre hanno cercato di la juve è quella non gioca mai a calcio l'inter ha fatto forse qualcosina in più a livello di come si può dire di 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 tenere palla di di cercare di far qualcosina ma non mi è sembrato perché poi ho sentito in zaghi dire abbiamo tenuto il pallino del gioco per 90 minuti a me non è sembrato questo sinceramente a me mi è sembrato sì che l'inter forse abbia fatto qualcosina in più ma ti importa uno due uno da una parte uno dall'altro ma poi poco e niente la juve è sempre lì dietro chiusa se l'inter ha tenuto un po ma è normale contro la juve oramai il possesso palla gli avversari ce li hanno tutte che sia l'inter che sia la cremonese perché tanto la juve sta sempre negli ultimi 30 metri evidentemente la palla la tengono gli altri perciò non è aver avuto il pallino del gioco ma il pallino ma di quale gioco io non ho visto grande gioco perciò se vogliamo andare sulla partita poi io ripeto tornando sull'episodio buttarla sul l'espulsione non è giusta è ingiusta ma poi lui dice lui è stato il frainteso Lukaku perché lui esulta sempre così e poi dice però ci sono stati dei cori razzisti tutta la partita allora o è una o è l'altra cosa o è stato frainteso perché lui esulta sempre così o ha risposto a dei cori razzisti si ha risposto a dei cori razzisti come così sembra purtroppo la munizione ci poteva stare come no dipende poi dall'arbitro in quel caso l'arbitro ha visto una provocazione e gliel'ha data perciò è una o l'altra cosa o esulta sempre così o provoca e ragazzi non è che si scappa da lì detto questo ripeto un qualcosa di incommentabile spero che adesso vedremo vedremo già da stasera perché ci sarà una partita anche stasera vedremo vedremo se gli interessi anche di altre partite se ci saranno poi cori e cose andranno sulla partita o sui cori razzisti o di discriminazione territoriale dai fatemi sapere la vostra scusate ragazzi ma veramente mi piacerebbe a volte vedere un po' più di coerenza anche nei media nei giornali nelle tv non solo un po' comodo dai vi abbraccio di cuore a tutti ragazzi vi auguro un buon proseguimento di giornata ci vediamo stasera per commentare appunto l'altra semifinale di Coppa Italia belli siete come dico sempre io ciao ciao